Musica 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 Nanos music buongiorno e benvenuti alla tg3 oggi abbiamo un ospite davvero d'eccezione leopoldo pisanello benvenuto signor pisanello benvenuto al tg3 grazie sì scusi ma perché mi trovo qua beh per rispondere alle nostre domande la nostra intervista che cosa ha mangiato a colazione io caffè latte e due fette di pane con burro e marmellata due fette di pane e com'erano buone tostate quindi lei preferisce il pane tostato sì esatto perché io lo posso chiedere ma non lo so così di solito preferisco il pane tostato io sì bianco oppure integrale bianco quindi possiamo dire senza ombra di dubbio che leopoldo pisanello preferisce due fette di pane tostato sì è un caffè latte senza zucchero la barba l'ha fatta prima o dopo colazione l'ho trovato straordinario Io, io. Leopoldo, sei stato bravissimo. Il telefono non ha mai smesso di squillare. Sì, ma... Ti vogliono il telegiornale delle otto domani. Ma che dici a me? Ma perché? Sei famoso! Ma che cosa? 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 Ma che cosa?